Si è svolta all'eremo dei Romiti la sfilata di moda intitolata l'evoluzione dell'abito dal 1750 al 1920. Un'occasione per le circa 200 persone salite a piedi di apprezzare i dettagli sartoriali delle riproduzioni degli abiti che segnalano 170 anni di moda. È nata questa sfilata come manifestazione prima dell'estate su mio desiderio in quanto ho commissionato a Luciana che è il titolare dell'atelier sart 5 abiti d'epoca dal 1750 al 1920. Io ho accettato molto volentieri l'incalico di Barbara sapendo che non sarebbe stato facile. Abbiamo cercato di documentarci per cercare di realizzare questi capi in modo più vicino possibile a quello che era l'epoca. Le nostre ricerche si sono basate su libri, stampe, dipinti, musei. Grazie. 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 Grazie.